Direi un ottimo secondo posto dietro a Oroglic è ancora una volta imbattibile. Sì, è un gran campione, ha dimostrato a tutti quest'anno il corridore che è. Credo che ce ne sono pochi adesso di corridori come lui, quindi per me è un podio onorevole dietro di lui, sono davvero contento. Cosa vi è stato detto quando il gruppetto ha sbagliato strada? Ma erano vicinissimi, abbiamo fatto l'ultima curva in fondo alla discesa e ho visto che non c'erano più. Io ho pensato che andavano così forti d'accordo davanti che ormai la gara era finita, invece avevano sbagliato strada. Purtroppo sono cose che capitano, non dovrebbero capitare, ma è andata così. E comunque, ripeto, ha vinto Oroglic, che è un gran campione, credo che sia bello per l'Algodoro. Al volo un piazzamento fondamentale per la Ciclismo Cup. Sì, sì. Con oggi credo che siamo davvero vicinissimi ad Androni. Peccato che mancano poche gare, tutte dure, dove fare punti è davvero difficile. Però abbiamo dimostrato di essere una gran bella squadra e di poter competere con tutti. Grazie, complimenti.